Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Cesu Mandolti, oggi siamo qui per vedere Sentiamo tanti bei tuoni, perfetto, provenienti dal lago di Zeo, vabbè, la parte Lì, in lontananza verso Milano, più o meno, sì, sta piovendo da matti Anche se ha piovuto da tipo fino alle 2 di mattina, no, dalle 2 di pomeriggio C'è comunque molto freddo, infatti sto tremendo E ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campione bene se avete tutte le mie notifiche E niente ragazzi, spero che video vi sia piaciuto O se vuoi avvertirvi questo qua, perché a me piace fare video sui tornado, robe varie Poi, quindi, poi stasera partiremo in buve, quindi fare un po' di video sui tornado, se ci sono Cose varie, anche se purtroppo dico la visione del tempo che per tutta la settimana ci sarà bello Quindi, faccio un bagno E niente ragazzi, spero che video vi sia piaciuto Faccio un commento, un mi piace, un mi piace per tutto quello che sto facendo per voi E se non volete, faccio un bagno E niente ragazzi, commentate qui sotto su dove avete appunto visto dei fenomeni naturali Così a meno che il mio papà e i miei genitori se possono portarmi lì Infatti non saranno capace del mondo E niente, al prossimo video, ciao ciao